Nella collezione Approach la novità è particolarmente affascinante. Parliamo della nuova TX4R. Andiamo a combinare uno dei prodotti più iconici della nostra collezione, quindi la TX4, con la nuovissima tecnologia Resolve Platform. Si tratta infatti di un materiale ad alta densità che si contrappone tra il battistrada in gomma e la Mizzoli Neva. Questo ci permette di risuolare in maniera facile, veloce e senza sprechi di materia prima. Quindi la scarpa, una volta consumata la suola, può essere facilmente risuolata. Tornerà come nuova, chiaramente. Anche in termini di ecosostenibilità abbiamo pelli trattate senza l'utilizzo di metalli pesanti, bordi in gomma riciclati, mesh della fodera e della linguella sono 100% riciclati, come anche i lacci e tutte le cinghie. I colori sono la particolarità che salta subito all'occhio, chiaramente è un vero e proprio tributo alla rampicata, alla nascita della rampicata sportiva negli anni 80. Qui utilizziamo il nostro storico logo, il mitico slogan Climbing on the Moon e chiaramente i colori tipici delle scarpette da rampicata negli anni 80 e 90. TX4R sarà consegnata in questo box speciale che è un chiaro riferimento a quelli utilizzati oltre 30 anni fa dalla sportiva.